Appena rientrati da Los Angeles, insomma, com'è andata? Bene, è andata bene. Siamo arrivati 150 e ce n'erano quasi 7.000 là, diciamo, ad attenderci. Quindi un evento da 10.000 persone, 7.000 atleti e 3.000 tra tecnici e accompagnatori. 150 paesi di tutto il mondo. Special Olympics ancora non è insieme alle Olimpiadi, nemmeno insieme alle Paralimpiadi. E questo dispiace nel senso di creare questi carrozzoni, questi enormi movimenti differenti, divisi. Dal nostro piccolo cerchiamo di approfittare di una delle regole base di Special Olympics negli ultimi 10 anni, che è lo sport unificato. Quindi fare sì che gli atleti, con e senza difficoltà, senza disabilità, giochino insieme con regolamenti adattati. Questa medaglia di bronzo è arrivata grazie alla pallavolo. Il punto più bello che lei ha realizzato? Qual è? Una schiacciata? Qual è stato? Io ho fatto un capitano, ho fatto una battuta, una sacciata, una fornè, però quello non ho fatto lui, che è proprio altro. Però, eh, devo fare anche io, però... Non era abbastanza alto. È che bravo, ho capito, è quello che le diceva anche questo. Quanto si è divertito? Parecchio. Bene. America gli è piaciuta? Sì, sì, si è consenso. Che esperienza è stata? Come esperienza è stata incredibile, perché ha permesso comunque di avere delle emozioni che normalmente magari sono concentrate in più anni, e lì invece si concentrano nel giro di una settimana, dieci giorni, e quindi è stato qualcosa di veramente irripetibile. Portare alto il nome dell'Italia e poi di Arezzo comunque sia è stato bello, ecco, vedere comunque che c'è stato un seguito, ci hanno seguito qui d'Arezzo, ha fatto veramente piacere. Con le bocce è arrivato questo primo posto, medaglia d'oro, una bella soddisfazione. Sì, sono bene. Perché ha scelto lo sport delle bocce? Una passione che coltivava da tanto tempo. Eh, anche più. Questa esperienza, qual è stato il momento più bello di questo viaggio, di questa esperienza sportiva, ma insomma anche ovviamente sociale? Con le bocce. Ecco. Quando ha giocato? L'America gli è piaciuta? Sì.